Sono 53.000 le istanze per la richiesta di cassa integrazione in deroga presentate alla Regione Campania dai datori di lavoro o dai loro delegati. Delle 53.000 domande, come spiega l'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri, la metà sono state già esaminate dagli uffici e per 23.000 lavoratori sono già stati preparati i decreti inviati all'Inps, che nei prossimi giorni provvederà al pagamento. Credo che siamo la prima Regione d'Italia ad avere un numero così alto di richieste di cassa integrazione in deroga ed è per questo che ho richiesto, dopo il primo riparto di 100 milioni di euro, ho richiesto altri 180 milioni di euro al Ministro del Lavoro. Le ho richiesti perché noi dobbiamo essere sicuri di coprire fino all'ultimo lavoratore per cui il suo datore di lavoro presenta la cassa integrazione. Proprio per assicurare che tutti i lavoratori campani siano coperti da questa misura, in Commissione Lavoro l'assessore ha espresso la propria contrarietà a un criterio di riparto del Fondo Nazionale, che prevedesse per la Campania 114 milioni invece dei 180 richiesti, un criterio che tiene conto delle tre settimane in più di cassa integrazione chieste dal Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in virtù della chiusura anticipata delle imprese rispetto al resto del Paese. La regione Campania ha un numero elevatissimo di domande ed è per questo che questo criterio potrebbe assolutamente portare via delle risorse e quindi abbiamo dato il nostro disaccordo a questo criterio. Siamo stati l'unica regione, però io ritengo che la nostra richiesta sia troppo elevata per poter in questo momento accettare 114 milioni di euro.